A me sono schiacciato la palla Che bello Bello schiacciarsi la palla in diretta comunque Bene ragazzi siamo in grano Siamo tornati qui con un nuovo video oggi Su FIFA e lui già comincia bene In tema ottimo perché si è schiacciato la palla Ma oggi siamo qui per fare ogni gol Unai mai abbiamo chiesto Sulla nostra pagina facebook che se non siete Ancora non avete ancora messo il like In descrizione c'è il link andateci a vedere Abbiamo chiesto di farci domande dell'Ai Mai Noi ne abbiamo selezionate alcune e ogni gol E leggeremo unai mai e quello che sopra il gol Altre squadre casuali 1,2,3 Io volevo fare questo 1,2,3 Bello Lucerna contro Molde Grande non prendo un giostecchio in mano da una vita Ma sa che non ci stanno i cosi non mai Ok meglio Ma è un po' più interessante la partita Guarda come il cazzo gioca Ok ci abbiamo modalità all'inbench All'inbench Ha già messo a scaricare il coso Guarda 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 l'innes L'innes si da ultra Si esatto E' lui E' proprio lui Oh oh Guarda quante cagna la madre dice Nooooooo E' il gol dei gol dei gol E' adesso tu Alla prima Hai mai Hai mai scelto Tra la tua ragazza e youtube Raffaele Migliaccio Ciao E' si Se vede come è andata a finire Che ha continuato youtube Esatto Con scarci di sottari Però E' sempre stata la scelta più giusta da fare E' la prima Hai mai L'abbiamo sputtanata Dammi sta palla Se ne va Se ne va Lo dico Jensher Se ne va Una palla o la vita Il No No dai Però questa era palla Cazzo Ma ormai nella vita Oh vedi La pinta Vai Si sdrogheta Voi Seee Ma serio Ma dobbiamo Ma dobbiamo Ma che ballone Attenzione Grande No Grande Ti ha batta BOOM Hai mai pensato I reme sorci verdi Ave mai pensato di trasferirti in un altro stato 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 Si Bella Ho pensato Io mi sarei voluto trasferire in Spagna Perché Con lo spagnolo Lo so Sto abbastanza e mi piace come città e con il spagnolo pure lui il vecchio marpione della Spagna è conosciuto come il Casanova in Spagna tranne l'ultima volta che ci sono stato vabbè però niente si mi piace la Spagna come altro stato avrei voluto trasferirmi Spagna però in realtà proprio come cosa reale vorrei trasferirmi a Milano cioè basta tutto qua che non è un altro stato anche io a Milano ci andrei molto di pensieri infatti dobbiamo farci un pensierino dobbiamo fare un po' di soldi prima quindi aiutateci lasciate un like un like un euro magari eeeh ma che cosa? sei caduto? ma vuoi come faccio casca a te? oh sei caduto non è fallo mai mai la vita that's game that's amore dai no nooo nooo ma che ca... ha distrutto la traversa eeeh ciao bello ciao non pensavo avessi finato urillo carcola infatti sono bloccato che singe song sempre lui il pelato finco pelato ahimai Roberto Girardi ci chiede hai mai ben segnato in chiesa? ahimè si ahimè si purtroppo si l'ho fatto e mi hanno pure sentito e il prete che ha detto? no non mi ha sentito il prete però mi ha sentito tutta la panchina che mi stava vicino eeeh è stata una bella cioè una bella soddisfazione no è stato veramente brutto e non lo rifarei mai più perchè mi ha sentito troppo a disagio oh dove vai il mio no dove vai il mio che cazzo ha detto è morto l'hai distrutto dammelo questo senomo dammelo non c'è senso tu sia oh porco due la parata la parata oh 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 fai ma che cazzo fai deficiente ma che cazzo a grande a big a big a big vincenzo kuhn di spa oliva hai mai pensato come sarà dovuta fra trent'anni? in parte sotto una barra beh intanto fra trent'anni sono cinquant'uno quasi cinquant'uno quindi a cinquant'anni spero di essere sposato con dei figli una moglie strafregna tanti soldi con dei soldi con dei soldi comunque che mi aiutino a campare e con una vita sopra la media ecco non voglio essere ricco ma non voglio neanche essere uno che non riesce ad arrivare a fine mese tutto qua quel pezzo della vita che sognano un po' tutti si tranne quel pechegno che sogno di sbocciare come è scanto tutti i giorni ton perignon e cazzo vari guarda la butta cazzo di colacchia toporio la cazzo sua ma chi è questo? guagliarella ma quella guagliarella porco tggo vai stai mai mai vai vai questo è tuo Irene Sebastianelli ma perché tutte le domande strane le donne? vabbè comunque ha mai scorreggiato in classe nessuno se ne accorto? ps mi salutate siete grandi ciao bella e allora si ma è una cosa cosi c'è tutti i giorni capito? per minimo una scureggia al giorno in classe la facevi vabbè però su belle perchè a volte facevi quelle sonore tipo subito cioè poi vabbè gli amico mio c'avevamo la tecnica subito ci giravamo verso la no? ma che cazzo ma che è stato? ma che è stato? porca troia una volta addirittura la maestra stava addirittura la professoressa se ne accorta e niente però è stato bello perchè nessuno se ne accorto che sono stato io se mi state guardando compagni di classe vecchi in merda sono stato io si come ragazzo la buzza di merda era sempre a colpe sua che era? abbiamo messo stai con tu porca troia mi ha preso un colpo ma che cazzo è stato? oh mio dio ma che è? no 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 aspetta però prima di leggere il vero e mai io devo fare questa qui perchè è poesia giuseppe la citignola ci chiede hai mai spirit infami mamma mia allora sto adesso leggiamo quello serio allora andrea memeo palmisano chiede hai mai spaccato qualcosa giocando a fifa e la tua sfiorata più grande qual'è stata? però non è mai mai quindi hai mai spaccato qualcosa giocando a fifa? si ehm si da tante cose a fifa ho tante cose belle a fifa un po' di cose però a cosi molti di più e a me ti ne avevo spaccato un pc quindi fantastico ho cominciato a dare i cazzotti sulla tastiera pure a lol infatti non mi funziona il nome diciamo che sono tranquillo quando gioca vedi? si no è fantastica come si no perchè ti senti il rumore di tastiera pensi che faccio qualcosa invece non faccio niente quella cosa bulla non so cosa sto facendo però ora segno guarda no si fallo guarda 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 che sto facendo ahhh mi pianema aurora degli santi tutti santi hai mai rischiato la vita? si l'ultima più recente era appunto a madrid quando mi ero bregato e sono cascato mezza strada con le macchine che passavano si e mi hanno raccolto ma stavano pure confiato per questo non se lo ricorda però vabbè è stato brutto è stato un momento brutto eh 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 mi è scappato dai a sto giallo dai a sto giallo che c'è le palle lo so che c'è le palle no non c'ha proprio le palle starb non c'ha carattere raga mamma 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 stai mamma ma non ha senso mamma mia ma che collè Matteo Chianesi hai mai pensato che tutto potrebbe finire? si vabbè si perchè perchè può finire tutto subito da un giorno all'altro che filosofia no vabbè prima o poi le cose finiscono tutto finisce cioè pur la vita per sé finisce quindi pure la terra pure l'universo anche finirà anche l'esistenza del male esatto no 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 si mi hai continuato subito si va bene no no non ci voglio credere va bene non ci voglio credere si eh Alessia D'Angelo hai mai provato attrazione per la mamma di un tuo amico? no sinceramente no no te lo so se io pa tua oh eh però no no non ve lo dì niente eh ok però no mai provato attrazione per la mamma di un amico io si penso davvero si a mio ooo 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 domani forse arriva attenzione attenzione preuler la passa e si e si ooo 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 ragazzi l'ho distrutto se questa vita vi è piaciuta se questa vita vi è piaciuta se non 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 vi è piaciuta i messaggi esatto se questo video vi è piaciuto lasciamo i like e consigliarci qua sotto cosa potremmo fare con il prossimo ogni gol era un botto prendiamo un gol in mano ma fa bene così senza parole le grazie a tutti ciao